Buonasera a tutti, bentrovati, siamo ancora insieme con Si fa sera, parliamole, alla nostra trasmissione di approfondimento del martedì qui su Grandocaso TV. Oggi con noi abbiamo Monsignor Razzauti, è il nostro ospite di stasera, benvenuto. Buonasera. Monsignor Razzauti è il vicario episcopale, vicario del Vescovo e anche il rettore del seminario Vescovile. Perché l'abbiamo invitato? Perché oggi parliamo delle scelte, scelte di vita ed in particolare della scelta di diventare sacerdote e di diventare magari religioso o religiosa. Insomma, parleremo, approfondiremo questo argomento, questo tema. Vi ricordo che siamo in diretta, potete mandare i vostri messaggi anche per rivolgere una domanda al nostro ospite, al numero che vedete in sovraimpressione, 328 40 88 555. Potete anche inviare una mail all'indirizzo sifastera-tiscali.it. Potete inviare sia sms che messaggi whatsapp. Noi li riceviamo e li giriamo direttamente a Monsignor Razzauti. Monsignor Razzauti, parliamo subito di giovani, perché poi alla fine le scelte di vita si compiono proprio in una certa età, insomma, diciamo, in un momento della vita in cui si finisce magari di studiare, si inizia a pensare a cosa fare del futuro. Però questi giovani fanno un po' fatica a scegliere, diciamoci la verità. Sì, la fatica a scegliere c'è, ma credo che ci sia un po' dappertutto, ecco, non solo per una scelta religiosa, ma anche una scelta civile, una scelta sociale, una scelta di matrimonio, di convivenza, di tutto quello che esiste oggi, no? Perché c'è la paura di staccarsi da pseudosicurezze che si possano acquisire, che è la famiglia o che sono gli amici o che sono le abitudini e quindi c'è la scelta di prendere il largo. Quel prendere il largo dell'anno 2000 di Giovanni Paolo II, credo che sia ancora attuale per i giovani, ma forse anche per gli adulti, perché oggi ci troviamo non solo di fronte ai giovani immaturi, ma ci troviamo anche di fronte ad adulti immaturi, quarantenni, cinquantenni ancora maturi, ancora alla ricerca non di qualcosa, ma di loro stessi e quindi quando si è alla ricerca di se stessi non si sa scegliere né per se stessi né per gli altri e si rischia di fare scelte sbagliate. Un po' lo stesso problema alla base forse anche di tutte queste famiglie dove i matrimoni finiscono, finanziamenti magari dopo tanti anni, persone che si lasciano, gente che non riesce nemmeno ad andare a lavorare fuori città, insomma è tutta una situazione di insicurezza generale che si respira. E' la famosa società liquida nella quale stiamo vivendo, la società grigia, definiamola come vogliamo secondo anche i grandi filosofi ultimi che hanno definito la nostra società, no? E' una società nella quale la stabilità non esiste più, basta vedere anche lo stare da una città all'altra, passare da un lavoro all'altro e quindi questo porta in stabilità poi anche negli affetti, nelle famiglie, nelle scelte, nella vita che uno fa, perché uno è sempre incerto, ha sempre paura, si vive con la paura. Io non so, a volte lo dico anche ai ragazzi in seminario, personalmente non so cosa sia la paura, ecco dovessi dire cos'è la paura o di aver paura di qualcosa non troverei una risposta a questa domanda, ma oggi si vive di paura, paura di questo, paura di quest'altro, paura e quindi la paura cosa fa? Fa chiudere, fa chiudere in se stessi, fa chiudere nelle proprie case, fa chiudere nei propri sistemi e allora mancano gli uomini che si dedicano alla politica, mancano gli impegni nel sociale, mancano coloro che si dedicano anche ad una scelta di vita religiosa o sacerdotale perché c'è paura, ho paura, la prima risposta è questa, ma con la paura non si va da nessuna parte. Queste scelte di vita a volte si rivelano anche delle vocazioni, ma che cos'è la vocazione che poi è quella motivazione particolare che ti fa decidere di entrare in seminario, di studiare per diventare sacerdote, per diventare una suora oppure un religioso. Abbiamo scovato tra i live dello scrittore Davenia, una clip molto anche divertente se si vuole, la mandiamo in onda e poi ne parliamo con Monsignor Azzauti. Questi sguardi, questi ritratti di Dio che io ho ricevuto da persone che facevano semplicemente il loro mestiere, dei genitori che fanno i genitori, un professore che faceva il professore, un sacerdote che faceva il sacerdote, ho ricevuto quella forza che mi costringe ogni giorno con gioia a dare la vita. Allora io vi auguro di costruire dentro di voi questo nucleo forte, indistruttibile, che vi porterà in maniera quasi naturale, spontanea, a un debito di riconoscenza e a portare quella unicità che siete venuti a portare agli altri, ma facendo quello che sapete fare. A me entusiasma che il nostro Signore ha passato trenta di trentatré anni a fare tavoli. Ripeto, trenta di trentatré, cioè non è che è venuto a farci la lezioncina dal deserto un personaggio misterioso, dice ragazzi vi siete comportati male, adesso vi spiego io come si fa. Per trent'anni ha fatto tavoli. Certo, tavoli da Dio. Una battuta con cui Davenia spiega la vocazione, no? Però è vero, insomma, la vocazione è anche quella della moglie, la vocazione è quella del marito, insomma non è facile nemmeno quello, vero? No, anche perché nessuno nasce con la vocazione o nasce con una determinata vocazione. Sono gli incontri della vita, sono, come diceva questo video, anche le persone di riferimento che si incontrano, che spesso danno una linea, danno una forza alla nostra vita, danno un orientamento alla nostra vita. E se permetti faccio un esempio, il pescatore, il pescatore che parte col suo peschereccio, se sta a fare i calcoli non partirebbe mai, non sa mai se può arrivare al mare grosso, sì, ci possono essere le previsioni, però a volte anche le previsioni sballano. E se arriva al mare grosso e col peschereccio è fuori? Ma se non parte col peschereccio non porterà mai il pesce a casa e non porterà mai quello stipendio a casa per poter mantenere la famiglia. Allora bisogna saper partire, bisogna saper levare l'ancore e salpare, perché allora troveremo anche figure di riferimento, troveremo il mistero degli incontri della nostra vita, perché in quel momento, perché quella persona, perché in quel luogo, perché proprio così, allora attraverso questi incontri noi cresceremo e potremo fare le nostre scelte. Spesso perché si diventa preti? Perché si è trovato un prete di riferimento che ci ha sconvolto la vita, che ci ha dato un input tale per il quale vale la pena seguirlo. Questa stessa domanda del perché si entra in seminario l'abbiamo rivolta a tre ragazzi che attualmente sono proprio in seminario e stanno studiando per diventare preti. Sono Alessandro, Bruno e Matteo. Vediamoli. Sono in seminario perché ho il desiderio di impegnare la mia vita e ho il desiderio di verificare quale sia il progetto di Dio sulla mia vita. Innanzitutto entrare in seminario vuol dire chiarire le motivazioni per le quali ci sentiamo chiamati. Quindi si entra in seminario non perché si vuole essere preti, ma per capire se veramente il Signore ci chiama a questa scelta di vita. È una domanda difficile perché quando si incontra a Dio non si può dirgli di no. La nostra vita cambia. E allora a un certo punto, quando avevo nove anni, ho fatto questa prima esperienza di Dio nella mia parrocchia come ministrante. E ad un certo punto questa prima esperienza di Dio mi ha chiesto di cambiare la mia vita per Lui. E così da tanti anni ho fatto un percorso molto lungo, ho intrapreso questo percorso per conoscere meglio Gesù, per incontrarlo entrando poi nel seminario. Sono tanti i ragazzi che si affacciano al seminario. Qual è la prima impressione che ne avete quando vi chiedono di poter iniziare? Il nostro seminario, a parte che è fatto anche una scelta di vocazioni adulte, quindi ci sono diverse richieste. Io il settimo anno che faccio il rettore mi sono trovato a farlo in un'età abbastanza adulta, direi anziana. E quindi il primo impatto è quello di chiedere la storia di questi ragazzi. Qual è la loro vita? Che cosa hanno fatto fino a quel momento? E essendo vocazioni adulte, essendo ragazzi che hanno già oltre 30 anni la maggior parte, hanno alle loro spalle gioie, dolori, ferite e successi. Quindi spesso vanno saputi leggere, vanno saputi discernere in ciò che sono, più che in ciò che fanno. È chiaro che purtroppo di fronte a tante richieste dobbiamo dire no, io in questi sette anni ho detto di no a 36 persone che hanno fatto domanda, altre otto le ho dovuti dimettere dopo un attento discernimento che è durato anche un anno, due anni per alcuni, con dolore, con dispiacere, perché quando si dice ad una persona, guarda, non riteniamo, perché il discernimento non avviene solo da parte mia, ma avviene con il vice lettore, col padre spirituale, con altre echippe di sacerdoti e con la psicologa che segue questi anche ragazzi, perché è necessario anche questo, avviene un discernimento totale tra queste persone e viene detto alla persona che non si ritiene giusto per il suo bene, non per il bene nostro, ma per il suo bene che continui questa strada. A volte si trova la persona intelligente che capisce e che accetta, a volte si trova la persona meno intelligente che invece va via in mala maniera, con la credine dentro di sé, con un po' di ribellione, fa parte del gioco, però in coscienza io ogni volta che mi trovo di fronte ad un ragazzo mi domando il suo bene, faccio il suo bene a tenerlo in seminario o a dirgli che la sua strada è un'altra, perché sono d'accordo con Papa Francesco, meglio rischiare una vocazione che è fare un prete sbagliato. Alle spalle, dicevi, hanno una loro vita, delle loro scelte, un passato e hanno anche delle famiglie. Come reagiscono le famiglie quando un ragazzo comunica che vorrebbe diventare prete? Lo abbiamo chiesto a questi stessi tre ragazzi. Inizialmente è stata un po' una tragedia, perché si immaginavano un seminario di altri tempi, un po' descritto dal mio parroco, un seminario che prevedeva un allontanamento dalla famiglia molto netto, deciso. Invece poi vedendomi a casa abbastanza spesso si sono tranquillizzati e sono rimasti contenti, insomma. Credo che il loro desiderio sia quello di vedere il figlio felice e quindi sono contenti della felicità mia. Allora, all'inizio non c'è stata sicuramente approvazione perché non frequentavo regolarmente la parrocchia, ma anzi, ero un ragazzo abbastanza forse sbandato, per così dire. Quindi c'è stato innanzitutto un rifiuto da parte della mia famiglia, ma dopo aver visto che questo cammino veramente mi dava gioia, mi dava tempo da condividere, da donare agli altri, mi hanno visto felice e quindi poi hanno condiviso anche loro camminando con me in questo percorso di fede. La mia famiglia l'ha scoperto quando ero molto piccolo, quindi è stato un momento per loro di stupore, un momento certamente di conoscenza anche di questa realtà. Cosa vuol dire avere un sacerdote in casa, in famiglia? E il mio percorso non è ancora compiuto, però è un percorso sempre in verifica e questa è la mia famiglia, mi accompagna, mi assiste, mi aiuta. Le famiglie non sono ancora pronte, Don Paolo, a questa scelta? C'è ancora reticenza nei confronti di un ragazzo che sceglie di diventare prete? Sì, credo di sì, che tante volte le famiglie fanno difficoltà, hanno paura, hanno paura e è vero, perché insomma essere prete oggi e non fare il prete, perché fare il prete lo so fare tutti, ma essere prete oggi non è facile, non è mai stato facile, ma oggi è ancora più difficile. Quindi c'è questa paura, ma domanda a te, essere madre, essere moglie è più facile? O essere marito o essere padre è più facile? Le difficoltà ci sono da tutte le parti. L'importante è avere il coraggio di affrontarle, avere la grinta e la forza necessaria per affrontarle. Se si lascia andare, si deriva subito alla prima ondata che viene addosso. Se si ha la forza e la grinta non solo di affrontare, ma di lasciarsi accompagnare, di farsi aiutare in questo cammino, si riescono a superare anche le bufere. Ne è arrivato un messaggio, Martina chiede come deve essere il sacerdote, quali sono le caratteristiche giuste per fare bene il prete, per essere bene il prete anzi? Per essere prete bisogna essere un uomo in cammino, un uomo che sa camminare lungo le strade, che sa incontrare la gente, che sa farsi servo della gente, che sa stare con la gente, perché il prete ormai arroccato in sacrestia, arroccato in chiesa non serve più. Bisogna partire dall'eucaristia, bisogna partire da Cristo, bisogna partire dall'incontro con lui, dalla sua parola, però poi andare in mezzo alla gente. Più che si sta in mezzo alla gente, e più che si incontra, e più la gente conosce il prete come deve essere. In fondo è lo stile di Gesù. Gesù camminava lungo le strade, chiamava i suoi apostoli, incontrava la gente, guariva, aiutava, dava una parola di incoraggiamento. Questo dovrebbe essere il prete. Un uomo innanzitutto, perché se non si è uomini non si può fare il prete, e poi il prete, cioè colui che aiuta, che sostiene, che dà una parola di speranza, perché tante volte oggi manca la speranza. Ci si ferma a recriminare sul passato, ci si ferma a recriminare magari anche sulle nostre ferite, sui nostri sbagli, sui nostri errori, e si perde la visuale della speranza del futuro. Guardando anche alle vocazioni femminili, in parrocchia hai avuto, quando eri antignano, anche delle vocazioni femminili, delle ragazze che hanno deciso di diventare suore. Com'è invece, dal punto di vista femminile, questa scelta? Ma io direi come prete, tra poco più di un mese, sono 48 anni che sono prete, ho avuto la gioia di accompagnare sei giovani al sacerdozio, durante il mio periodo di viceparroco a Sant'Agostino, e una ragazza verso la vita religiosa, anche se solo all'inizio, perché poi ho lasciato la parrocchia, a chi mi è succeduto, l'ha accompagnata maggiormente, verso la vocazione religiosa. Ricordo quando, me l'ha detto la prima volta, eravamo in un colloquio di direzione spirituale, ricordo anche il luogo, e mi disse, mi è venuta questa idea. Era in seguito ad una missione parrocchiale che avevamo fatto in parrocchia. Erano venute delle religiose, le suore francescane del Vangelo. Questa ragazza era rimasta affascinata da queste donne, che veramente erano di tutte e di più, tanto che io poi le feci venire in parrocchia a Lantiniano, e poi purtroppo hanno lasciato, e affascinata da queste, ecco le figure di riferimento di cui si parlava prima, ha seguito poi questa strada. Andrea chiede, ma com'è la vita in seminario? Cosa si fa in seminario? Abbiamo anche delle immagini, magari mentre rispondi facciamo vedere alcuni flash della vita tra le mura del seminario. Potrei rispondere con uno slogan, di tutte e di più. Si sta insieme, innanzitutto, e quindi stare insieme è un momento importante, perché è la vita della comunità, è la vita nella quale ci si confronta continuamente e si sta insieme persone che non si sono scelte. Questa è la difficoltà della vita di comunità. Siamo 10-12 persone che non si sono scelte, ma sono state chiamate a stare insieme. Quindi bisogna sapersi accettare, per prima cosa. Poi si prega, come vediamo in queste immagini, e la cappella è il luogo centrale della vita del seminario, perché a un certo punto la preghiera, il punto di riferimento con la preghiera e con il Signore è ciò che ci dà forza. Si mangia anche, perché in seminario si mangia anche, perché è importante anche il cibo, perché la mente sana è nel corpo sano, ci si diverte anche, si può giocare, si gioca insieme, si scherza, si sta insieme liberamente, si studia. Tanto tempo vanno nello studio, anche perché noi abbiamo uno studio interdiocesano a Camaiore, quindi tutte le mattine i nostri ragazzi, quelli che non hanno terminato gli studi, prendono e vanno a Camaiore e tornano oltre le una. Quindi ci si sveglia presto, si va a letto ad un'ora decente, verso 22.30, 23.00, ci si ritira ciascuno nella propria camera, dove chi vuole pregare, chi vuole andare a letto, chi vuole ancora studiare, può farlo però in un limite di tempo che permetta poi la mattina dopo di essere abbastanza svegli e di non dormire durante magari la celebrazione della messa o durante le preghiere. Che non sarebbe proprio indicato. Beh, può anche succedere, qualche volta può anche succedere. C'è differenza tra la vita in seminario e poi quella che sarà la vita del prete? Il prete è un uomo solo, era venuto fuori anche durante le trasmissioni precedenti. Il prete è un uomo solo? No, per me no. È solo se vuole essere solo, se non vuole essere solo sa come fare, ma non perché si trova qualcuno, per carità, ma perché sta in mezzo alla gente. Se si sta in mezzo alla gente non è un uomo che sta da solo. Io ho vissuto la mia vita di parroco, soprattutto da viceparroco, non c'era la casa per il viceparroco e quindi abitavo ancora con i miei, quindi la sera rientravo a casa. Da parroco invece ho vissuto da solo, tranne gli ultimi anni quando è morta la mia mamma e avevo con me il mio babbo, ma non mi sono mai sentito solo, anche perché fino a mezzanotte non rientravo mai in casa perché avevo impegni in parrocchia. Quindi c'è un ritmo di vita che non fa sentire soli. Poi ci si sente soli se siamo soli dentro, se abbiamo il vuoto dentro. Se non abbiamo il vuoto dentro non ci si sente mai soli. La vita di comunità è completamente differente. Io a 65 anni, dopo 40 anni che ero prete, mi sono ritrovato, e anche di più, mi sono ritrovato a rifare la vita di comunità. Il bescovo mi ha chiesto di fare il rettore del seminario e i primi mesi sono stati sconvolgenti perché da una vita che mi organizzavo pur negli impegni di parrocchia o negli impegni di vicario generale che avevo avuto dopo, ma che mi organizzavo da solo ad una vita di comunità, agli orari, al rispetto degli altri, a stare con gli altri, che da una parte aiuta perché si sa che in quell'orario c'è la preghiera, in quell'orario c'è il mangiare, in quell'orario c'è la vita comunitaria, in quell'orario c'è lo studio, aiuta. Da un'altra parte costringe e stringe, quindi c'è parecchia differenza. Però la vita comunitaria vissuta bene aiuta poi ad essere un prete che sa vivere anche da solo. Quello della solitudine forse è il problema dei primi anni del prete, che passa dalla vita comunitaria alla vita da solo e quindi sente un po' la mancanza di punti di riferimento, di punti di dialogo. In fondo io abituato in seminario e ora ho un vicerettore, grazie a Dio, che fa come me, la mia forza è sempre aperta. I ragazzi sanno che in ogni momento possono venire, bussare, parlare e dialogare, anche perché io mi chiamo oggi un po' il recuso del seminario, perché la maggior parte delle mie ore le passo in seminario, tranne poche ore al mattino per andare a celebrare messa dalle suore di clausura del Carmelo. Poi sono sempre in seminario, al di là delle riunioni o di impegni di vicario. Quindi sanno che c'è sempre un punto di riferimento. A volte in parrocchia può mancare questo. Ecco il ruolo dei laici. Il ruolo dei laici è di non lasciare soli i preti, ma di essere punti di riferimento, luoghi di riferimento per i preti. Il prete allora che non sta da solo in canonica, che non si chiude in canonica, ma se ha bisogno di un dialogo, se ha bisogno di una parola, c'ha la famiglia, c'ha il riferimento a cui suonare, a cui bussare e c'ha una parola di conforte e di amicizia. Andrea chiede, come si fa a capire se una vocazione è vera? Penso sia la domanda delle domande. È la domanda delle domande, è la domanda che mi faccio anch'io. Io, il Vescovo, una volta scherziamo col Vescovo e dico tu hai la responsabilità di imporre le mani e quando imponi le mani su un candidato al presbiterato c'è la quasi certezza, poi la certezza finale sarà di fronte al nostro Signore che lì c'è una vocazione. Ma io ho la responsabilità di dirti se ritengo quella persona idonea o meno per il presbiterato. E vi posso dire che le notti prima, i giorni prima di questa affermazione che devo fare di fronte al Vescovo, di fronte alla Chiesa riunita in quella cattedrale, sono giorni di inquietudine, giorni di dubbio, giorni di ricerca, giorni di approfondimento, giorni di preghiera, perché è una responsabilità grossa. Una responsabilità che poi anche se si pensa che si dimentichi io mi porto dietro e tutti i giorni ricordo nella mia preghiera quei dieci giovani che in questi sette anni ho presentato al Vescovo per il presbiterato. Tocchiamo un altro tasto dolente, il celibato. Forse questa può sembrare una scelta superata negli anni 2000 del prete che non si sposa? Ma è difficile, è difficile parlare di questo, cioè nel senso che sia passata o meno. Io credo che debba essere una scelta, non un'imposizione. Se diventa la condizione sine qua non, cioè la condizione senza la quale non si può essere prete, allora io resto celibre perché se no non possa diventare prete si schianta dopo poco tempo. Se il celibato diventa invece una scelta di vita nella quale io so che la mia vita la dedico non solo al Signore ma alla gente che incontro e mi rendo cibo, io divento Eucaristia per la mia gente, divento cibo per la mia gente, mi do da mangiare alla mia gente, il celibato passa in seconda linea perché so a chi donare la mia vita. Ci sono dei gradi, degli step da passare, no? A seconda degli studi, a seconda degli anni che appunto uno è presente in seminario. Quali sono diciamo questi gradi da superare per arrivare a diventare sacerdote? Vediamo anche delle immagini della recente ordinazione diaconale in cattedrale. Il primo è quello dell'anno propedeutico, l'anno di prova, chiamiamolo così, nel quale questo ragazzo si presenta e viene esaminato sui vari aspetti della sua vita. Dopo quest'anno di prova c'è l'ammissione al seminario, ma è un'ammissione formale. Comincia o il periodo di studio, per chi ha ancora da studiare, o il periodo di esperienza nella vita della diocesi, nella vita della caritas, in vita dei servizi vari che ci possono essere in diocesi e in questo periodo si conferiscono, si danno i ministeri del lettorato e dell'accolitato. Poi dopo tre anni di questo per chi ha finito gli studi e dopo sei anni di studio, per chi non aveva ancora fatto gli studi, c'è il rito di ammissione al diaconato e al presbiterato. Questo avviene di solito poco prima del diaconato. Poi il conferimento del diaconato. Il diaconato forse non si considera bene, ma è l'ordine più importante, perché è il momento in cui si lascia la propria laicità per diventare chierico. Si entra a far parte del clero. Cioè è il momento del famoso passo da uomo di tutti i giorni, no? Da uomo feriale a uomo clericale. Senza sbagliare diventare un clericale, perché se uno diventa clericale, poveraccio, è finito. Bisogna rimanere con la propria umanità, no? Però è il momento del passaggio nel clero. E in questo passaggio si porta con sé anche la promessa di obbedienza, la promessa di servizio, la promessa di essere uomo di preghiera. Non per niente gli viene consegnato anche la scrittura, il breviario, all'obbligo di pregare questa preghiera della liturgia delle ore, che è la preghiera universale. È la preghiera che ci fa sentire una piccola particella di un grande universo. Nel momento in cui io recito quella preghiera, con me ci sono altri milioni di preti e di laici che recitano quella preghiera. I laici per loro volontà, noi preti come dovere di pregare per la Chiesa e per la nostra gente. Poi c'è il presbiterato che è il penultimo gradino del sacerdozio. Noi si pensa che sia l'ultimo gradino, no? Se diventa preti siamo a posto. L'ultimo gradino è l'episcopato. Ma lì ci arriva, facciamo una battuta, chi è raccomandato? o chi si sa mettere più in mostra o chi ha demeriti particolari ad altri, no? È una battuta, per carità, i vescovi non se ne abbiano a male, se no domani si va sotto inquisizione. Ma il gradino più alto è l'episcopato. Il presbiterato è la partecipazione al sacerdozio del vescovo. Infatti anche il parroco non ha il proprietario della parrocchia, ma va in parrocchia a rappresentare il vescovo. Quindi occorre poi questa unione, questa comunione con il proprio vescovo e con il resto del presbiterio. Possiamo lanciare, ora siamo in chiusura di trasmissione, un messaggio ai giovani che magari ci stanno seguendo o che ci seguiranno anche durante le repliche. Cosa vorresti dire a questi ragazzi per capire qual è la loro vocazione? Beh, comincio con una frase scema, è una battuta scema, uno slogan che prete è bello, ma può essere no, però ne vale la pena, ne vale la pena poter spendere la vita per gli altri, per gli altri e quindi per Dio, per Dio e quindi per gli altri. Vale la pena mettere quando siamo nel periodo delle scelte in ipotesi anche una scelta presbiterale, una scelta di sacerdoti, una scelta religiosa per le ragazze, ne vale la pena, però bisogna togliere un velo o togliere uno stato, quello della paura. Non abbiate paura, abbiate coraggio, lanciatevi, prendete il largo, non state troppo attaccati alle vostre pseudo sicurezze, perché possono rischiare di diventare delle boe che vi portano a fondo. Cercate di sganciarvi da queste boe, cercate di avere il coraggio di prendere il vento veramente dello spirito e andate dove vi porta, diceva una famosa scrittrice, il cuore, sì, dove vi porta il cuore, dove vi porta il suo spirito, dove vi porta il vostro sentire. Non abbiate paura, perché se avete il coraggio della scelta e avete il coraggio di lasciare un vuoto che ci può essere dentro di voi, sarete riempiti di molto di più. Bene, con questo augurio ai giovani che ci stanno seguendo, ringraziamo Don Paolo, Monsignor Rezzauti per essere stato qui con noi, grazie infinite e poi vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.